buongiorno a tutti eccoci qui con le creazioni catalizzate sono stra curiosa guardate che reti allora da cosa iniziamo vediamo allora iniziamo dal tondo medio che è nero nuvola vediamo come è uscito non guardate lunghe nero nuvola già finito il nero guardate però che la vostra è venuta fuori la m il mio nome può essere carino con la con la m del proprio nome però molto rosa potrebbe venire blu che era meglio definito però da carino vedete mettendo meno nero si scurisce diciamo di meno la creazione però come possiamo chiamarla la definizione ecco del movimento è sempre comunque palese è venuta fuori stai ma il mio nome va bene ci sta e questo ce lo siamo fatti adesso guardate l'evidenza così non posso sbagliare nuvola nero ok e deve essere con glitter dove sono finiti glitter si ci sono ok è lui poi io mi pare che questi qui devono fatti come mi pareva a me erano quelli che avevo in più metti e mi tiro fuori allora questo qui non c'è nero può darsi che sia solo un effetto nuvola mi viene da pensare vediamo un po come è uscito esatto effetto nuvola quanto l'ho buttato che sta venendo tutti così qui c'è cascato troppo bianco cioè non è che c'è cascato ho fatto cascare io troppo bianco va bene questo va a capire cos'era sarà black p3 cloud black nuvola vediamo black nuvola mi viene da pensare perché vengono le nostre bollicine è molto carino mi piace ma ho notato anche se vedete i video precedenti che sconosce bollicine strano di solito con questi effetti non mi capita peccato perché sennò molto carino ok poi speriamo che le bollicine non ci siano in questi altri passiamo i quadrati allora un quadrato è nero nuvola con glitter l'altro quadrato e pitri con glì sì a questo deve essere pitri con glitter poco per forza vediamo un po se è vero è vero è molto carino come vi dicevo ultimamente non so per quale ragione il pitri dice mi esce un po con quella tecnica era una tecnica prendi quello che la faceva a scuola quando facevate i disegni invece di colorarli ci facevate tutti i puntini di quel colore non lo so mi vengono fuori così che sembra tanti puntini che vanno a colorare diciamo quella forma e comunque mi piace mi piace sì ok invece avevamo detto l'altro questo pitri l'altro è black cloud glitter black cloud glitter non mi fai arrabbiare mi sono messo anche qui vicino alla finestra che di solito non dà problemi vedete appena ma vicino io ve li voglio far vedere zoomati perché vedete meglio l'effetto va bene la black cloud gritter ed è uscito così forse mi è caduto troppo bianco molto pastelloso è uscito però nulla di che preferisco che il colore si si veda di più e va bene e ci togliamo anche questo passiamo ai tondi allora uno abbiamo il nero nuvola senza glitter e e l'altro il nero pitri senza no al nero nuvola senza glitter e l'altro il 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 nero pitri cloud allora secondo me questo è il nero nuvola secondo me vado così sentimento niente dai mettiti a posto ok non so perché dico che il nero nuvola però mi viene così vediamo scopriamo non diventare bianco ok penso sì sia nero nuvola questo non ci sono glitter quindi secondo me sì e mi piace sì mi piace anche sono molto temi i colori e c'è una micro bollicina lì io male che vada lo sbuco lì e sono posto però così per salvare questo è una roba stranissima non capisco perché no glitter pensavo che magari quando metti glitter e mescoli si possono formare delle bolle però questo non aveva glitter boh me la devo studiare questa qui perché sta capitando quando faccio queste tecniche e uno ce lo stiamo elevati di questo qua e poi l'altro abbiamo il nero pitri cloud tre tecniche insieme non so cosa sia uscito fuori allora partiamo nel presupposto che il retro è molto carino mi piace un sacco mia premonizione supposizione secondo me è tipo un black cloud dubito che si veda così tanto la la combo del pitri e del cloud poco l'aggiunta anche del nero però vediamo non l'avevo mai provato quindi la prima volta in diretta con voi il retro promette bene il davanti non si sa vediamo com'è questa fusione di tecniche ed è come supponivo io però vedremo anche gli altri allora c'è da dire vedete lì dove c'è rosa e lì dove c'è il blu molto lieve però un po dell'effetto pitri c'è ma se lo guardo così mi viene che sia più nuvola tra carino di questo pastelloso mi piace di poi e questo lo togliamo facciamo i nostri cuoricini guarda che belli mamma mia allora uno è nero nuvola glitter e l'altro è nero pitri glitter quali sarà dei due non lo so boh andiamo a casazzo non so da quale iniziare perché mi ispirano tutti e due vediamo questo vediamo qual è quindi uno nero nuvola uno nero pitri vediamo però mi ricordo di aver messo il bianco in tutti e due boh vediamo nero pitri assolutamente e sembra un fondale marino questo è il corallo palese fondale marino molto molto carino niente con il nero dietro risalta tantissimo il movimento viene una roba spettacolare oddio c'è un puntino di bianco lì probabilmente o che era rimasto un qualcosa fatemi sapere voi come li pulite quando fanno tutti sti cose perché andare a togliere mi da urto un bel po un bel po bel po per molto molto bello mi piace nonostante quello mi piace un sacco bello pitri black cloud no black pitri era glitter glitter super approvato e questo ce lo siamo arrivati poi il black cloud glitter vediamo un po anche qui il retro promette bene qui c'è il viola e ho un po pauretta perché vedo un po il il colorino che però è più un verde bottiglia non diventare bianco non diventare bianco vediamo eccolo bello viene sempre bene fateci caso con questa tecnica del nero per una stupidaggine l'effetto cloud mi piace sempre i misteri bello molto rosa tocca cambiare colore perché però molto carino mi piace perfetto poi abbiamo gli ultimi due abbiamo uno vale il nero pitri e l'altro il nero pitri cloud quelle dei due l'uno quelle dei due l'altro non me ricordo tiriamo lì fuori allora eccolo qua mi pare che questo avevo fatto il mio effetto quello tra virgolette arcobaleno vediamo un po che pasticcio è uscito fuori ultimamente questo è nero pitri cloud ultimamente gli ovali non mi vengono un granché nero pitri cloud no dai guardate anche che il viola è rimasto viola questo non è il tagarello questo è il giallo brillante si vede che ha contato con qualche colore giallo brillante io mi so giallo brillante il santa fe il rosa può essere che si scurisca un po però no dai va bene poi vi dico bisogna vederli alla luce naturale perché non rende granché a parte che la telecamera non so non si illumina d'immenso da sola ma non so da voi cioè qui sembra che l'estate era arrivata era un caldo pazzesco adesso cavolo ho dovuto riaccendere il termo dal freddo bene se oggi doveva uscire un po di sole se esce li vorrei far vedere alla luce perché così non rendono infine abbiamo l'ultimo col nero pitri cloud quindi le tre tecniche insieme senza glitter vediamo un po ok come quella o mancavoli tutti due quelli che ho fatto il coso mi misce il pallino allora si diciamo che il pitri si va a perdere nel nulla praticamente quindi sempre un black cloud però dai carino sì e preferisco mettere come dicevo nel video meno nero perché sennò te lo scura molto invece qui come vedete i colori sono belli accesi però la definizione del movimento è presente l'unica cosa che mi fa strano questo avevo fatto il serpentino normale niente a volte mi capita cioè qui si vede per dire che ho fatto il serpentino in orizzontale e in verticale qui probabilmente sono in orizzontale boh qui l'avrò fatto strano no qui lo devo aver per forza fatto sia in orizzontale e in verticale ma rende poco va bene niente cose cose mie allora niente questi sono i risultati sono soddisfatta recap finale black cloud approvato black pitri approvato con glitter senza glitter mettendo meno il nero il black pitri cloud diventa un semplice black cloud quindi è un'unione che che non esce anche se un tempo quanto facevo il pitri cloud insieme la combo si vedeva si vedevo che col nero lo va a spegnere non lo so però ricordo che un pochino veniva e niente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se provate questa tecnica tra virgolette fatemelo sapere che sono curiosa di vedere video e niente ci diamo presto ciao 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 ciao